Spazio per Rincon, spazio un po' per tutto il Torino, sono in cinque. Rincon! E la palla in rete! Il gol del raddoppio del Torino, il gol di Thomas Rincon. 2-0 per il Torino, un'azione personale del giocatore venezuelano che con il gran sinistro da fuori area è andata a metter alle spalle di Stracoscia, il suo primo gol in campionato, il primo gol con la maglia granata, il gol del 2-0 del Torino. 64esimo minuto